La cultura che fa conoscenza, ma anche turismo. È con queste prospettive che Palagiano ha dato il suo caloroso benvenuto al Museo Civico Narra Centro, allestito all'interno dell'ex sede comunale di Piazza Vittorio Veneto. Narra Centro è un esempio di museo civico di nuova generazione, vera novità per la provincia di Taranto, dove multimedialità e interazione si intrecciano. Articolato in tre sale, la sala delle mappe, quella del tempo e quella delle storie, i visitatori vengono sorpresi da molti proiezioni, dispositivi touch che permettono in autonomia di immergersi nella storia archeologica e sale interattive dedicate agli studenti, che mostrano il lavoro dell'archeologo, come ad esempio durante i lavori sulla necropoli neolitica, rinvenuta durante i lavori eseguiti sulla statale 106 tra Palagiano e Chiatona nel 2010. Narra Centro è il prodotto degli sforzi comunali nell'aver intercettato i finanziamenti regionali, ma anche locali, con i partner che hanno reso possibile la realizzazione. Tra questi, oltre alla BCC di Massafra, anche l'Associazione di Protezione Civile Cover 27 MHz di Palagiano, con il progetto Paisaggio Condiviso a tutela e salvaguardia dell'ambiente. Il museo oggi viene presentato alla città anche se nella versione solo multimediale, perché siamo in attesa dei reperti e la mia intenzione era presentarlo soprattutto prima della fine dell'anno scolastico, di modo tale che i ragazzi potessero già scoprirlo, abbiamo intenzione di istituire dei percorsi gratuiti per loro, già scoprire che cosa significa avere un museo sul territorio e come riscoprire di avere una carta d'identità per guardare al futuro con un occhio diverso. Questo progetto è molto importante perché comunque sia da valore all'ambiente, quindi riqualificare i beni culturali, come per esempio la Villa Comunale di Palagiano. La nostra associazione in questo periodo del progetto, siamo andati in varie scuole proprio per far capire anche ai ragazzi il valore dell'ambiente. Oltretutto abbiamo organizzato un'escursione nel Bosco di Chiatona proprio per far capire che anche nei boschi bisogna avere rispetto e per far capire alla gente quanto è importante la protezione civile, quindi riuscire a far entrare più persone possibili nel nostro mondo. Alla cerimonia di inaugurazione ufficiale svoltasi giovedì 20 aprile erano presenti tra gli altri l'architetto Maria Elena Campanale della Regione Puglia e il prefetto di Taranto Donato Giovanni Cafagna. Il Narra Centro sarà gestito in via sperimentale per due anni dalla Proloco Cittadina. Il progetto Narra Centro è un lavoro che noi abbiamo seguito da relativamente poco tempo, è un progetto lungo sei anni. Sono passate due amministrazioni, diversi assessori, qualche consigliere è stato coinvolto, diversi professionisti dei quali oggi qualcuno era presente e qualcuno no, purtroppo. È un progetto che è stato molto impegnativo sotto molti punti di vista, però è un progetto che può pagare perché l'impostazione che è stata dal museo non è soltanto archeologica, è turistica, è multimediale, è didattica. Quindi è qualcosa che può valorizzare moltissimo il territorio e può essere utilizzato in diverse forme. Il nostro impegno è stato quello di prendere in mano un lavoro che comunque non era stato ancora previsto come affidamento non era stato ancora organizzato per una gestione vera e propria, è stato soltanto portato a termine e consegnato. Quindi noi quello che lo sforzo abbiamo dovuto fare è quello di appunto creare un progetto di fruibilità sperimentale chiaramente, il nostro affidamento è per due anni soltanto ed è mirato al testare i vari business plan possibili per un'attrattiva di questo tipo a livello turistico e naturalistico perché è anche un museo naturalistico per quanto riguarda poi l'impatto sulla didattica delle scuole locali, sul circondario e sui turisti soprattutto.